Buonasera a tutti ragazzi, è appena finita, a Feralpi, Salò, Padova, al Turina il Padova non riesce a vincere. Eppure oggi c'è andata tanto così, tra Vazic, Bortolussi, Liguori, abbiamo rischiato di portarci a casa tutti i tre punti. Quindi intanto mettete mi piace perché oggi, nonostante una giornata intensa, sono qui a portarvi il video post partita. Oggi iniziamo un nuovo lavoro e non ero sicuro di riuscire a portare il video, però per voi questo ed altro. Commentate, ditemi la vostra cosa ne pensate di questa partita. 0-0 però uno può vedere magari il risultato così, dice beh, partita noiosa, per nulla. Partita veramente veramente bella, combattuta non solo a centrocampo, ci sono state azioni importanti sia per i Leoni del Garda, sia per noi. Feralpi, Salò che arrivava tra l'altro da due sconfitte di fila in casa e quindi era una sorta di crisi. E diciamo che prosegue però il fatto che non abbia perso è già una buona cosa. Loro ovviamente avrebbero voluto vincere per togliere i fantasmi della sconfitta. E intanto mi siedo perché sono distrutto. E niente, purtroppo sia per loro sia per noi arriva un punticino che comunque fa bene. Il Padova è da sette partite se non sbaglio, sette o otto, ora ho perso il conto, credo sette. Che non perde. Da quando c'è Vincenzo Torrente il Padova non perde. E vi posso assicurare che il Padova visto con Caneo nell'ultimo periodo, qua intanto fanno rivedere l'occasionissima con Vasi, cintuffo, pazzesca. Il Padova di Caneo nell'ultimo periodo avrebbe perso, ma anche 3-0 perché la Feralpi Salò ha un organico pazzesco. Basta pensare che dalla panchina entrano Guerra, Voltan, Cernigoi, cioè ragazzi. Ma di che vogliamo parlare? Un organico clamoroso. Il Padova risponde alla grande. Bortolussi e Canavò ancora non a segno ma mi sono piaciuti davvero tanto. Liguori, come al solito, ma di cosa vogliamo parlare? Liguori è un cazzo di fenomeno. Liguori è un cazzo di fenomeno anche quando non segna. Dopo ti taggo, ti voglio bene Michael. Madonna, se Vasi ci segnava di testa però lì esplodevo cazzo, esplodevo. Ora non mi ricordo contro chi siamo alla prossima, se non mi sbaglio potrebbe essere la pergolettese. E io mi gratto perché all'andata abbiamo perso 5-0. E da lì è iniziato il declino del Padova di Caneo. Sera pergolettese la prossima. Io mi gratto intensamente i cosiddetti. Perché ho paura. Ho paura. Però questo Padova mi piace, mi convince. Lotta. Lotta sul campo. E voglio crederci, Torrente vuole continuità di vittorie e speriamo che possano arrivare i tre punti contro la pergolettese. Fatemi sapere la vostra anche per le vostre sulla prossima partita cosa ne pensate, come potrebbe andare. Seguitemi sul canale perché ovviamente non faccio solo video sul Padova. E iscrivetevi, mi raccomando. Attivate la campanellina così rimanete sempre sintonizzati e ricevete la notifica sul vostro cellulare che è uscito un mio video. Seguitemi anche su tutti gli altri social che magari chiacchieriamo un po' quando ho tempo. Mi fa molto piacere e sono molto attivo sui social, voglio dire. E niente. Una buona serata a tutti e tra poco, tra un'oretta, mi guardo la Roma. Così, giusto perché non c'ho nulla da fare. Vediamo un po'. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.